Magari con i seccoli, ma te la giochi 12 contro 11 sicuramente sarà un'altra partita. Magari forse anche l'espulsione ci ha dato quella carica in più, perché nello spogliatore ho visto una squadra carica, una squadra che voleva un risultato e penso che la squadra non abbia meritato, anzi come diceva lei, forse nel secondo tempo abbiamo avuto un po' più occasioni noi, perché quella palla, ma io vorrei solo rivedere nel primo tempo quel fallo di mare, quel calcio di rigore, solo quello che voleva rivedere, perché la squadra ha retto bene, venivamo su un campo importante, difficile, siamo stati, rispetto a domenica scorsa, penso che la squadra abbia dimostrato di avere carattere, di avere una fisionomia, come ha detto lei, ha dimostrato di saper leggere la partita, di sapere quando attaccare, quando palleggiare e quando magari soffrire, quindi questo è un merito dei ragazzi.